C'è una manifestazione che è curiosa già sin dal titolo Tour dell'Ammunizza, la spazzatura va in tournée? È un viaggio, l'idea del tour è del viaggio, di seguire le tappe, il percorso dei rifiuti ed è un progetto avviato al 14esimo istituto comprensivo, la Papa Wojtyla in via Tucidide. È un percorso per le prime medie, 7 classi, 146 ragazzi, che analizzeranno il problema dei rifiuti a Siracusa e seguiranno il percorso che fanno i nostri rifiuti. Quindi capire anche come in questo viaggio se un rifiuto è subito differenziato e trattato con i percorsi giusti diventa paradossalmente una ricchezza. Una risorsa, ma l'obiettivo è ancora più ambizioso perché l'analizzare e conoscere per i ragazzi ha una finalità di comunicazione. Loro lavorano attraverso disegni, attraverso canzoni anche, attraverso i piccoli filmati che le interviste ai responsabili dell'impianto lavorano per un convegno, quindi per comunicare ai genitori, alla scuola, alla città quello che hanno imparato. Insegnare ai più piccoli chiaramente è fondamentale, ma intanto quelli più grandi, come ce la stiamo cavando con la sfida della differenziata Siracusa? Ce la stiamo cavando, i dati aumentano e aumenta anche la qualità. E' del 14 marzo l'ultima analisi a sorpresa del Coreve, che è il consorzio del vetro, che ha trovato la qualità buona e ci ha portato dalla terza fascia alla prima fascia. Quindi un ottimo vetro. Questo significa che stiamo facendo una discreta differenziata, ma che anche la raccolta è realmente differenziata. Sì, la raccolta è differenziata. Sempre, ogni dieci giorni, viene raccolta la plastica, il vetro e la carta. Speriamo di, dato i risultati, aumentare questa raccolta. Ti ricordo che non possiamo cambiare il numero degli svuotamenti perché siamo legati al contratto del 2003. E quindi la raccolta è molto più accurata, l'attenzione messa del cittadino è molto più elevata e i risultati si vedono.